ciao barbie family e bentornati in un nuovo video dai simona madonna allora siamo tornati adesso da abbiamo iniziato a pulire che a giugno voliamo sta mangiando le patatine ed è arrivata la notifica che sono arrivati 1 2 3 3 tutti insieme tutti insieme che non è che bello ma che bello ma che bello e andiamo a ritirarli ma il gioioso adesso adesso hanno fatto la benze si sono messi dentro e andiamo nel senso andiamo è la madonna devo fare il tuo ecco 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 Ah no, vedi che c'è gente Ma come c'è Dove ti metto? Perché nulla? C'è gente? C'è gente? Terzo He got it Siamo tornati a casa Siamo pure per terra Come due babbuine Simona vieni dentro Avvicinateli così non devi stare più Ok Iniziamo dal primo mega giga enorme pacco Allora Ma cosa ci sarà a bo? Madonna mia io ho un paurino So scotch si leva con lo scutino Ma che cavolo C'è lo scotch è sollevato dalla Manco appiccicato C'ho una paura D'aprire perché Ultimamente Non sanno cosa sia di casa E io sento ballare Non sanno cosa sia di casa L'imballaggio Sì dai No l'ha imballato Meno male E' imballato E' imballato E' imballato Ah no 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 C'è un sacchettino Qual è? Partiamo dal sacchetto Ma cos'è il sacchetto dei cani? Volare Della cacca dei cani? È il sacchetto della cacca dei cani Ma ha svegliato la cacca dei cani? Sì è riciclo Sì è bau bau Ah ah è il sacchetto della cacca dei cani Che carini Cos'è? Un omaggio? Topolino Che carino Gattino Cagnolino Elefantino Che cavino Guarda questo E' freddo Vuole questo Che carini Bene 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 Non vedi? Bene grazie per l'omaggio Penso che sia omaggio Perché io A meno che non erano Ah ecco perché l'omaggio Perché mi ha fatto aspettare Più di cinque giorni Della spedizione Oh questa spedizione l'ho fetuta L'ho fetuta questa spedizione Apri Si abbrò C'è qualcosa che ti muove Non è che l'ho pagata Ho pagata due euro e cinquanta Perché io quando ho questo sono tirchia Sono molto tirchia Sono attente ai prezzi Quindi io le cose Ah era questo No Era questo No Era questo Il tutto Beh c'era anche questo C'è scritto boss e queen Non so cosa sia Sono molto di una tirchietà Cos'è? Io di solito Utilizzo il pulley bull Ma questo penso proprio Che lo butterò Non lo so C'era un pelo dentro Non me lo dire di che cos'era No 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 Era ricciolato Era riccio Il pelo ricciolito Eh ma fai così E non lo fai Vabbè Veli Ok Se era un pelo di cane Non mi interessava Non mi interessava Ecco qua Questo è Il furgoncino Della farm Farm di Barbie Proprio di Barbie Marca Mattel È tutto rosso Ok vabbè Mancano gli specchietti Ma chi me ne frega Mette gli specchietti Io Guardo questo Quando c'è da risparmiare Specchietti Non frega niente Tanto non guarda nessuno Lo specchietto Non li guardiamo noi Essere umani Figuriamoci le bobi Quindi Allora Qua si apre Qua andava la paglia Viene venduto con la paglia Con bobi E la capretta Che fa ciao ciao E poi non me lo ricordo Il cane Il cane Barbie Le luci sono finte È rosso Ed è bellissimo Troppo troppo bello Cioè Ed è la fattoria E quindi andiamo in fattoria Che bello C'è le citture in sicurezza E c'è i sedili neri Ma che bello 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 Ah vanno avanti indietro i sedili C'è qua 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 Vedete Che cos'è Basta Cos'è Cos'è questo Niente 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 Ma perché vanno avanti indietro Perché Ah perché seguì da un anno Digo Non so se Non vi vedete Che vanno Vedete che si muovono Vabbè comunque Non ci soffermiamo Questa è una Questa 250 Comunque questi acquisti Nel pacco Tutti meno di 10 euro Adesso non mi ricordo Molto bene I prezzi Così comunque 2,50 3 euro Siamo Fuscati Fragile C'è scritto C'è scritto Fragile L'aveva già notato Papà Ho comprato i pampers E Simona Il pacco Di pampers Questo pacco Ha fatto La terza guerra mondiale Ma quante persone L'hanno utilizzato Per le spedizioni Ci sono i pezzettini Doveva essere Un trasporto Cavalli Ma no Il recinto Il recinto Ma Il recinto Ma L'ho preso Con il recinto Beh Il salto dell'asta Si ma Non c'è Gancio Dobbiamo Ah Era il contrario Perché Ma Fingiamo E No Dove si sale No Dopo Ma Scusa Non si aggancia Non si aggancia Non si aggancia Non si aggancia Ma mi dai il trasporto cavallo Ma che Allora Sono gli ostacoli Simona Questo non è ostacolo Questo va qua Questi Non so Non so No Sono giusti Quelli là pure vanno attaccati lì Questo dove va Quelli Quello rosso va attaccato pure lì Qua Va qua Sì Insieme No Sotto Parla un po' lì Allora Qua Non sta chiuso Perché non sta chiuso Vabbè Dovrebbe essere così Ma non sta chiuso Come vai Ah è staccato È staccato Il fermo Maledizione Devo fare un fermino Perché non si ferma Cioè Non rimane su Quindi dovrò fare qualcosa È spaccato il fermo Vabbè Chi se ne frega Metterò un Io Dove l'ho rotto Qua è spaccato proprio qua Sì sì E qua Che andava in castro qua E rimaneva chiuso Però si apre Io metto Il vecchio Che quando arriva qua Rimane chiuso Molto bello È il trasporto dei cavalli Anni 90 Si attacca al furgone No non si attacca al furgone Perché il furgone Ha un altro aggancio Tipo di gancio Però posso modificare E farlo andare No ma comunque Qualcosa ci abbiamo Con sto buco È bello il set Con la gipetta È bella L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista Su Vinted Vabbè comunque Per 2 euro Anche questo 2 euro e 53 euro Cioè Molto bello Qua va il cavallo Qua ci sono tutti gli adesivi Vabbè qua poi lo aggiusterò Molto bello Il trasporto cavalli Molto molto bello Mi piace E dentro ho trovato La spazzolina Beh dei cavalli Il salto Che piccolo Molto pulito Molto pulito La mangiatoia Penso che sia la mangiatoia Cosa arriva dentro Ma qua dentro Ah forse Ah sì Sarà qua Sarà per qua Sì La mangiatoia Guarda Che cazzo Magari è contrario Vabbè comunque La mangiatoia Il La brocca Il secchio Viola Questo c'è da Vabbè Questo C'è da rinpello No Cosa è questo Boh Taccato malissimo No qua Taccato proprio male Ah l'ha scritto Eh sì Cavalli Eh cavalli Ma manca Dove me l'appiccico questo Ci sarà stata una colonnina Dove attaccare Eh dei recinti magari La locandina E qua Mancano i pezzi Del recinto Per attaccarlo Eh lì mancano i pezzi Quello con l'attaccato al recinto C'è lo stesso colore Adc E c'è lo stesso colore Ah sì Ah sì Cavallo C'è ragione Allora Iniziamo Al contrario Ma ha detto ignorante Non so Ma sì Cavallo Questo Lo fa da portellone Signore Fa da portellone per i cavalli Ah sì Ma è alcun No Oh giusto Senti Così E devi attaccare questo Ah sì Sì ma però l'ha attaccato malissimo Boh vabbè Bello No non l'ha attaccato malissimo E così che andava attaccato Ma è staccata la scritta valide Eh ma perché guarda No quello che sei così Entra così Eh vedi C'è un numero che ti sta chiamando Eh lascialo chiamare Oh E qua Eh forse c'era il continuo Che c'era dentro i salti del cavallo Che ho montato Sì sì Ce ne sono quattro Di diverse grandezze Cos'è pagato adesso? Ma 2,50 euro Sì 2,80 euro No Aspetta Gli avevo fatto la proposta Turchia che sono Ma no Forse 3,50 euro Ma si è spostato il telefono scusa? Eh papà col suo pidonzo No 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 Sono illuminata Ok Eh Molto bello Vabbè poi lo modificherò Tanto Vabbè Ma questo c'era dentro Scusami Ma io non l'ho visto nell'annuncio C'era solo questo Boh Ci sono quattro salti di cavallo Carini Bellini Molto belli Eh ma c'era solo questo Sì Sì 3,50 euro 3,50 euro Vabbè mettiamo dentro Di nuovo Oh si è smontato tutto Vabbè tanto E di C'era Vabbè tanto ce l'aveva lì Dai secoli dei secoli Vabbè comunque mi pare 3,50 euro Scusa perché lo metti via? Aspetta Devi giocare Dov'è la forbiciutta? Anche il pezzo Ultimo Pacchetto Ultimo Pacchetto Ultimo Pacchetto Ultimo Pacchetto Ecco qua Ecco qua Ecco il cavallo Il cavallo Ha smontato tutto Poteva far provare Adesso si Che bello Guardate che bello Basta la testa Basta la testa Basta la testa Va su e giù Si Cesta la cavallo Caligur Cavallo E insieme c'è la Barbie che non mi piace Perché c'hai Piedoni giganterrini Non ci trovano le scarpe E quindi non mi piace Cioè mi piace Bella però di riso Cavolo Ci uccidi fuori Barbie Papillon Mi sa che Papillon si chiama Il cavallo Papillon E la Caligur Che Caligur mi pare L'avevo trovata pure Io e la mia memoria Indossa Giubbettino di jeans che è molto carino I pantaloni Molto belli Rosso E Va su A cavallo E' proprio il suo cavallo C'è una che ti chiama Eh ma basta Mi rendo reperibile Rifiuta Ah Ma scusa Scusa E' snodata Alle ginocchia E ai gomiti E basta Molto probabilmente Lei Alla colanina sua La metterò Con un altro vestitino Su Vintage Perché Non lo so Non lo so Devo pensarci C'ha gli stessi capelli del cavallo Che vanno in simbiosi Ok Adesso proviamo Fica Dai ci sei pure tu qua Ma dai Gli hai fatto sbattere il muso Poverino Vabbè ci sta comunque Si siede pure Ok Poi Il salto del cavallo Alza su Gli hai fatto E tu tu tieni E salto Basta Basta Non ce ne sono più Perché ho finito i soldi Non ho più una lira Sono ormai Quattrinata Basta Ma di che cos'è Di un pony Forse di un set Questo set Di un pony Perché E' troppo Piccolino Certo E poi si chiude No Vedete A tre ore che lo dico Ma cosa ascolta questa Le nuvolette Solo ti fermi Solo ti fermi Tutte e due Spettati Vabbè Chi se ne frega Metti il ventro Ma niente E niente Vi piacciono i miei Acquistini Quali vi piacciono di più Un camioncino A mettere il cavallo Del camioncino Ma non ci sta Poverino E' l'unica cosa Non si aprono le portiere Quindi Bobi Deve Bobi La Bobi Ma stai da dietro è meglio Ah si Eh vada dietro Che belle cose che fa Mattel Una porta non la potevate farle Oh Oh Vabbè dai Andiamo Vabbè dai Andiamo Madonna quanto pesa Bene Amicicci E' giunta l'ora La conclusione del video Spero che le cose che Ha acquistato Vi siano piaciute A me molto Perché sennò non le avrei prese No Oddio No basta Devo dire che ho speso molto poco E sono contenta così Che un patore fa la doccia Questo quanto l'hai pagato? Ma con la spedizione mi sembra 8,80 euro Solo questo? Mi ricordo 2,83 euro Una roba del genere Comunque tutto basso Tutto basso Tutto basso 2,50 euro Il camioncino Sì Siamo stati tutti Sotto gli 8 Sotto i 10 euro Tutti con la spedizione Perché sennò Io No ma no Ma perché mi fa Ah Perché Oh Perché mi fa male così Bene amici Madonna è due È duro quando la testa È nuovo È usato poco E la testa? Sì si muove un filino Si muove solo quando abbassi? Non lo so Bene Spero che vi siano piaciute Ve l'ho già detto Like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per ricevere la notifica Dei nostri video Qui dovevamo aprire Una cosa di Natale Ma purtroppo È slittata Slitterà domani Sentite È qua È qua Ma la scappa Ti posso avessi È qua È qua Vi faccio vedere Solo un pezzettino Saluta il cavallo Ciao Chiedi Chiedi Niente Niente C'è vivo Dai Simona Ciao Ancora E non chiude Meglio Scoreggiato È scoreggiato Ma fa freddo È C'è di qualcosa È Diucido Mi